ciao volete gli gnocchi con gli spinaci? stasera come si fanno questi gnocchi? si scaldano gli spinaci si passano dove si passa? o nel passatutto poi si unisce la ricotta le uova la farina e si impasta si fanno delle palline va beh ma quante ricotta? quante farina? quante uova? a piacere? due uova un quarto di farina e un quarto di ricotta e mezzo chilo di farina una bustina di pan degli angeli per farli crescere no no il pan degli angeli no controllo il pan degli angeli perché non è un dolce io lo so che tu sei una una sponsor del pan degli angeli ma non ci vuole il pan degli angeli controlla bene ah va beh non ci vuole e che bufarisce? si fanno bollire si fanno delle palline si mette l'acqua sul fuoco si fanno bollire si mettono dentro all'acqua quando crescono con la schiumarola quando salgono a gallo si levano e si condiscono col sugo col burro come come le vuoi va beh va beh siamo soddisfatti di questa ricetta ma tu l'hai fatta qualche volta come no e come non l'hai fatta non l'hai fatta tanto tempo fa c'è quando eri signorina e ti incontravi con si ok ok l'hai preparata per per il marito l'hai preparata per il marito questi gnocchi con gli spinaci o per la famiglia non mi ricordo ma molto tempo fa comunque l'hai fatta e li consigli si sono buoni no se vengono buoni perché il procedimento è semplice ok ciao ciao ciao